Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova rapida analisi notturna su bitcoin è domenica 2 ottobre, sono le 23.16 e la centratura in questo momento a parte la possibilità che il settimo t-3 diventi ribassista oltre al sesto perché siamo andati oltre le 44 barre quindi 45 qui quindi escludiamo ormai un altro tipo di movimento possiamo togliere un po' di punti di domanda 1 e 2 e finalmente possiamo dire che da qui è estremamente probabile che sia partito il settimo t-3 anzi è certo ormai che sia partito il settimo t-3 il settimo ciclo giornaliero per il fatto che anche se non abbiamo uno swing violato quindi debolezza non si riesce ad andare sopra questa media mobile a 50 periodi in rosso sopra il livello inferiore della cumo si è provato ma non si è penetrati c'è quindi la possibilità di tornare verso questi livelli verso i 19.050 nel caso ci arrivassimo prima delle 23-24 barre sarebbe meglio potremmo valutare un altro short chi è short di medio periodo continua ad avere le sue soddisfazioni qui su questo minimo però ricordiamoci che abbiamo trovato la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura non soltanto di un t settimanale ma persino qualche cosa di più nella realtà dei fatti se continueremo con candele rosse come quella che sta venendo adesso da qui non potrà essere partito in ogni caso un nuovo t settimanale un nuovo t-3 che farà parte di un nuovo settimanale perché se non andremo almeno in violazione di questo massimo a 19.396 ci sarà poco da fare prenderemo questo sesto t-3 per ora lo accompagno fino a qui lo metteremo appunto qui toglieremo il colore rosso perché stavamo valutando una partenza da questo massimo invece questa candela ci dice lasciate lì l'allarme per lo short e vediamo perché per la chiusura di questo terzo t-inverso come ben sapete se andiamo a prenderci non il DAX dove comunque abbiamo operato bene ma il grafico quotidiano di bitcoin vedremo che c'è tutto il tempo per andare in chiusura massimo 11 barre noi siamo a 6 l'intuizione del t-1 inverso è stata fantastica perché abbiamo fatto solo candele rosse se volessimo solo fare una chiusura di settimanale siamo già ben posizionati ricordiamoci che ribassista quindi come minimo si dovrebbe tornare sotto e questo è il target i 18.646 se volessimo fare un bel ciclo dovremmo andare sotto i 18.478 questi sono i due target principali dato che peraltro il nostro t settimanale è arrivato a 7 barre non ho aggiornato la centratura di lungo periodo ma lo faccio in un attimo ci ricordiamo anche che c'è tutto il tempo per il t-inverso il terzo t-inverso per fare la sua chiusura perché è in ritardo rispetto appunto al lato indice qui siamo a 6 correggiamo anche qui e ci possono essere chiusure fatte in qualsiasi modo dato che ormai dato che siamo più che altro a dei tempi molto molto bassi ancora non siamo vicino alla tempistica massima che ci può essere qui abbiamo un mensile inverso ormai qui possiamo fare così aggiustiamo un po' il grafico prima di domani mattina che magari farò un bel update e dato che qui siamo al dunque primo questo è il secondo tp2 inverso dovremmo non soltanto andare a chiudere un mensile inverso poi ricordiamoci anche di questo ma ricordiamoci che si può fare in qualsiasi modo volete vedere in che modo può essere fatto? primo modo si va sotto questo minimo si conferma il fatto che il secondo t-3 e comunque questo mensile si arriva a sista si arriva e si è già arrivati oltre le 24 barre e poi si va a chiudere così oppure si fa così e così ci sono un miliardo di modi in cui si può poi andare a fare vogliamo vederne altri? ne possiamo fare all'infinito ok? perché intanto qua di tempo ce n'è tanto tantissimo per cui disegnatelo come meglio preferite sapendo che c'è questo vincolo ovvero che si ritorni come detto a questo target di minimo 18.549 in realtà il migliore sarebbe quello a 18.210 questo sarebbe il target perfetto che si può raggiungere però anche in questo caso con quante barre? noi siamo al terzo di settimanale non è detto che non si faccia un quarto per cui chiude si fa un pochino di discesa chiude il mensile e poi finalmente si va giù con un altro mensile in questo caso non voglio darvi 300 modi diversi di leggere le cose noi abbiamo un vincolo sul terzo t settimanale che entro l'undicesima barra si torni ripeto come minimo sotto i 18.646 l'ottimo sarebbe 18.478 teniamoci bene buono questo limite questo vincolo se poi riusciremo ad andare anche qui sotto confermeremo quanto già detto quindi ribasso se dovessimo posizionare temporaneamente il sesto t-3 qui invece è possibile che faremo partire un nuovo settimanale ma ripeto strano perché o prima andiamo a chiudere e poi scendiamo o scendiamo e basta ma in ogni caso il discorso è questo è un t-settimanale vincolato a ribasso che ce ne facciamo ci sono centrature alternative io ho provato a dare un'occhiata e ce n'è una ma in questo momento non ho questa grandissima voglia di prenderne di raccontarvela per cui siamo arrivati già a 7 minuti mi avete chiesto in tanti di fare questo aggiornamento fatto eventualmente domani prima di mezzogiorno o dopo pranzo farò un altro aggiornamento perché ci racconteremo se saremo appunto andati sotto questo minimo e avremmo valutato il nostro short avremmo preso un altro short e saremmo andati da qualche altra parte oppure differente perché la strada principale è vediamo se si viola questo minimo a 19.050 dollari prima delle 23 barre e andiamo short fine del discorso vi ringrazio per il vostro tempo vi auguro una splendida serata ricordate di mettere un bel like a queste analisi altrimenti tra un po' le faremo solo più nel gruppo premium e non le faremo più pubblicamente grazie ancora buona serata grazie a tutti